Erano circa le 22 quando il telefono ha squillato per l'ennesima volta, ma in questo caso era il comandante dei carabinieri di Trani che portava un'insperata notizia. Abbiamo ritrovato il furgone, le carrozzine sono intatte. Lieto fine per i ragazzi dell'Oltresport, l'associazione tranese che due notti fa aveva subito il furto del mezzo che oggi li avrebbe condotti a Jesolo per raggiungere il raduno della Nazionale Italiana di calcio in carrozzina elettrica. Una lunga giornata trascorsa tra appelli e solidarietà da ogni parte della regione sino al momento tanto desiderato. I malviventi hanno abbandonato il furgone in contrada puro vecchio nelle campagne tra Andria e Trani. È stato un cittadino a notare il mezzo abbandonato, danni inevitabili all'interno dell'abitacolo, ma tutta l'attrezzatura sportiva, comprese le carrozzine elettriche, sono rimaste intatte. Una gioia indescrivibile per tutta l'associazione. Un vero sollievo, poiché il ritrovamento del mezzo ha riacceso le speranze dei ragazzi di poter partecipare alla manifestazione di Jesolo. Certo, sono state 24 ore, chiamiamole 24 ore, molto concitate per tutto l'ambiente, perché alla fine riconosco la grande solidarietà che si è mostrata nei nostri confronti e che mai ci ha fatto sentire soli. E quindi diciamo che seppur una triste vicenda con un lieto fine. Davvero tanta la solidarietà e le dimostrazioni di affetto ricevute durante la giornata di ieri da Luca Medici, in arte Checco Zalone, sino ad arrivare al presidente della regione, Michele Emiliano, che aveva chiesto ai malfattori di restituire quelle carrozzine acquistate con tanti sacrifici, il segno della Puglia più bella. Ed ora, superate difficoltà, il team azzurro dell'Oltre Sport si prepara a partire in direzione Jesolo domani mattina all'alba, spinto da tutto l'affetto ricevuto nelle ultime ore. Abbiamo ricevuto un mezzo da un nostro sostenitore in maniera completamente gratuita, che ci darà la possibilità di raggiungere comunque Jesolo. L'entusiasmo dei ragazzi sono sicuro che saranno capaci di dimostrarlo a tutta la regione e non solo, perché loro hanno un grande obiettivo, hanno recepito la vicinanza e la solidarietà di tutta la gente che in queste ore ha voluto supportarci. Il ritiro della nazionale italiana di Powerchair rappresenta una grande opportunità per questi ragazzi, un sogno inseguito a lungo e che ora diventa realtà. Da domani avranno modo di dimostrare tutto il loro talento. Il presidente dell'Oltre Sport ci presenta così la sua rosa vincente. Abbiamo Anita Pallara che è di Bari, fa la parte della rappresentativa nazionale e anche presidente di Famiglie SMA. Abbiamo Pasquale Troccoli che è di Bitetto, il nostro bomber. Abbiamo Ilaria Mesaroli che è una ragazza di Trani e fa parte della, la chiamiamo il nostro Roberto Baggio perché è davvero una ragazza che pratica questa disciplina con grande consapevolezza. Abbiamo il nostro Donato Grande che ormai è il nostro famoso Donato Grande, oltre ad essere il capitano della nostra associazione, è colui che ha avuto tenacia nel custodire e nel perseguire questo sogno e allo stesso tempo anche obiettivo. Abbiamo Vincenzo Appruzzese, altro ragazzo di Trani che farà parte della rappresentativa nazionale, il nostro The Wall, il muro della difesa.